Passiamo alla seconda categoria, cioè i coloranti liquidi. I coloranti liquidi si differenziano invece in due categorie che possono essere idrosolubili o liposolubili. Come abbiamo detto prima, le indicazioni riguardo le diverse tipologie di coloranti, lipo o idro, non cambiano molto a seconda che si parli di polvere o di colorante liquido. Diciamo che i coloranti liquidi idrosolubili, anche questi possono essere utilizzati per panna, latte, pasta di meringhe, ghiaccia reale, idrosolubili. Come vi dicevo, l'utilizzo è vario, potete usarli anche, ecco, se non usiamo i coloranti in gel per colorare la pasta di zucchero, figuratevi voi se possiamo utilizzarlo i colori liquidi. Ok? Stesso discorso per la ghiaccia reale. Se io vado ad aggiungere un liquido, un colorante liquido alla ghiaccia reale per colorarla, va da sé che vado a destabilizzare completamente l'equilibrio tra polvere e acqua. Comunque l'equilibrio. Ci arriviamo Lorenza? Ci arriviamo? Comunque te lo posso anche anticipare, io uso solo coloranti o coloranti in polvere oppure le nostre tempere alimentari. Perché, al contrario del gel, non hanno gelatina, cioè hanno una bassa... Vabbè, ma ora mi stai facendo andare oltre? Io mi ero preparata tutto il mio discorsino. No, a parte tutto, possiamo usare le tempere, perché le tempere hanno un altissimo potere colorante e non sono dei gel, ok? E quindi mi vanno a colorare la pasta di zucchero senza rendermela appiccicosa. In alternativa coloranti in polvere. Io sono da hashtag coloranti in polvere tutta la vita, ok? Poi, in alternativa, i bepainting vanno benissimo, ma i coloranti in gel non li amo, ok? Non è che non vanno bene, non li amo. Comunque stavamo dicendo dei coloranti liquidi liposolubili. Il colorante liquido liposolubile è un colorante che secondo me non ha un grosso... Ripeto, mia opinione personale, non ha un grosso margine di utilizzo, ok? Perché comunque è sì che è già diluito, ma il problema qual è? Che vanno ad alterare l'equilibrio e quindi la stabilità proprio della vostra preparazione. Vi stavo dicendo coloranti liquidi liposolubili che, come abbiamo visto, si differenziano in due categorie anch'essi. Quindi coloranti a base di oli vegetali e coloranti a base di burro di cacao. I coloranti a base di oli vegetali si presentano nel 90% dei casi liquidi anche a temperatura ambiente e sono particolarmente indicati per la colorazione di tutte le masse da forno. Quindi anche in questo caso parliamo di pasta frolla e quant'altro. Quelle masse che devono andare a essere cotte in forno. Quindi possiamo utilizzarle per la rainbow cake, possiamo usarle per la red velvet, possiamo utilizzarle per tutta questa serie di preparazioni. Perché? Perché la loro composizione fa sì che la tonalità di colore non subisca delle variazioni in fase di cottura. Infatti, che cosa può succedere? Che voi magari colorate la vostra pasta frolla di rosso, l'andate a infornare, quando tirate fuori i biscotti non è più rosso ma è un color mattone, è un color marrone. Questo perché? Perché ci sono colori che sono specifici per essere utilizzati ad alte temperature e coloranti che non sono specifici per il forno, per le alte temperature. Quindi, cosa vuol dire? Non vuol dire che se sul vostro colorante non c'è scritto usare in forno non potete usarlo. Però fate delle prove perché non è detto che quel turchese con cui voi avete colorato la vostra massa rimanga turchese e non diventi invece verdognolo. Con i coloranti liposolubili liquidi, diciamo che sono nati abbastanza per questa funzione, non, questa cosa non succede o comunque succede in minima, in minima, in minima parte. Poi invece abbiamo i coloranti sempre liquidi, liposolubili, a base di burro di cacao. Questi coloranti solitamente a temperatura ambiente si presentano solidi, esattamente come il burro di cacao. Come si usano? Questi coloranti si utilizzano per la colorazione appunto del cioccolato, si utilizzano per la colorazione del burro di cacao e come potete utilizzarli? Potete utilizzarli esattamente come utilizzate, come lavorate il cioccolato. Quindi voi andate a sciogliere il colorante, il burro di cacao e lo mantenete a una temperatura di circa 27 gradi centigradi. In linea di massima, poi è chiaro che ogni marca ha le proprie caratteristiche e le proprie differenze, però in linea di massima l'utilizzo è quello. Per utilizzarli dovete indubbiamente scaldarli, ok? Perché altrimenti si presentano solidi.